Domenica 1 ottobre 2023, mancano pochissimi minuti alla partenza della passeggiata cicloturistica organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Pesaro insieme all'Associazione Cicloturistica La Centinarolese, una giornata di sport in cui la Banca di Credito Cooperativo ha un ruolo fondamentale a sostegno dell'attività dei propri soci e dei propri correntisti. È uno degli eventi programmati e pianificati per l'anno 2023 dalla Banca di Pesaro siamo quasi arrivati in fondo, la settimana scorsa siamo stati con la gita sociale e oggi invece c'è questa bella iniziativa della cicloturistica in collaborazione con un'associazione sportiva Banca di Pesaro, una banca attenta al territorio, alle esigenze e soprattutto alla comunità sempre più intenzionata a crescere nel corso del proseguo dei prossimi anni Oggi coinvolgiamo tante famiglie, che poi è la cosa fondamentale il coinvolgimento delle famiglie dove purtroppo ad oggi stiamo vivendo un periodo particolarmente anche difficile da un punto di vista economico, ci sono dei fattori macroeconomici che stanno incidendo negativamente poi sulla vita del quotidiano. Quindi una domenica in spensieratezza insieme alla banca e la banca, come vi dicevo, è sempre molto molto attenta alle esigenze del socio e del cliente Oggi abbiamo pensato di fare due tipi di percorsi per abbracciare un po' tutte le esigenze di tutti quelli che saranno i partecipanti e un giro per quelli che sono più allenati per coloro che sono più allenati e hanno voglia di misurarsi che si snoderà nelle colline intorno a Pesaro e qui abbiamo un territorio bellissimo per cui si presta tantissimo ad andare in bici e percorreranno circa 70 km con un dislivello di 800 metri invece per tutti quanti gli altri che vogliono farsi e godersi una bella passeggiata visto che ci sono ancora queste giornate di sole faremo una passeggiata di circa 20 km che si snoderà percorrendo tutte le piste ciclabili tra l'altro a Pesaro avete una rete di piste ciclabili non indifferente, bellissima e percorreremo il lungomare per poi ritornare qui davanti alla sede della banca dove i due gruppi si rincroceranno verso l'ora di pranzo e ci sarà un buffet offerto dalla BCC Banca Pesaro e quindi la giornata si prospetta bellissima e molto, penso, molto bella per tutti perché sarà motivo di incontro e di sorrisi e di amicizie e quant'altro Qual è il rapporto tra competitivi e passeggiatori? Da noi, nella nostra squadra, diciamo che non ci sono agonisti per cui non facciamo gare agonistiche, facciamo solo passeggiate ci sono ragazzi più giovani che camminano un po' più forte ragazzi un po' più anziani che camminano un po' più piano però si va d'accordo tutti insieme, si torna sempre tutti in gruppo Allora, parliamo delle prossime attività del vostro gruppo sponsorizzato naturalmente dalla Banca di Credito Cooperativo di Pesaro Sì, da due anni c'è questo sodalizio la Banca BCC Pesaro è entrata nel nuovo dei nostri sponsor ed è un partner importantissimo per noi sia per tutte le attività e soprattutto per un evento clou che organizziamo di solito il terzo weekend di luglio ed è una due giorni ciclistica a livello nazionale per le categorie giovanili, per la categoria allievi in pratica ragazzi di 15-16 anni che provengono da tutte le regioni d'Italia si confrontano per le strade di Centinerola in questa due giorni e questa due giorni è denominata Memorial Michele Stefano in ricordo di due nostri amici che se ne sono andati purtroppo presto e tra l'altro la BCC Banca Pesaro è un partner fondamentale in questa organizzazione di questo evento e ci dà tanta soddisfazione perché organizzare eventi per lo sport a livello giovanile, quindi incentivare i giovani a fare sport penso che sia una cosa bellissima La BCC è anche molto impegnata nel sociale vuoi ricordare ai nostri telespettatori quali sono gli impegni che la banca si è presa, che il tuo presidente sta portando avanti da tantissimi anni, forse decenni Sì, esattamente, perché non dobbiamo mai dimenticarci che il ruolo di una BCC poi è ricordato nell'articolo 2 del nostro statuto dove la mission è proprio sostegno del territorio quindi il sociale, la cultura, lo sport quindi tutto quello che ruota all'interno di una comunità e di persone in cui tutti dobbiamo crescere La BCC nel corso degli ultimi, diciamo come dicevi tu giustamente nell'ultimo decennio, si è impegnata tantissimo stanziando cifre importanti del bilancio a sostegno delle iniziative sociali quindi che vanno anche in un mondo molto importante secondo me che è la sanità quindi anche nella sanità, l'attenzione abbiamo una collaborazione anche con centri importanti per la cura e le prevenzioni anche di malattie purtroppo importanti che colpiscono i cittadini Grazie a tutti